e crociate l'ultima inchiostrada di Pietro Citati vedete cari amici questo è Corriere della Sera Odierno cultura, cultura, cultura mercoledì 1 giugno 2016 vedete questo è l'intellettuale Pietro Citati e questa è la sua inchiostrada guardate che inchiostrada guardate guardate che inchiostrada Pietro Citati l'Islam e le crociate un altro punto di vista ma quale altro punto di vista? Pietro Citati lo sanno tutti che sulle crociate sono tanti punti di vista ma tu pensi che i lettori del Corriere della Sera siano tutti dei cretini? un altro punto di vista? e ce lo somministi tu l'altro punto di vista? beh beh andiamo con calma Pietro Citati è una mia vecchia conoscenza perché io nel 2010 oltre sei anni fa nell'aprile del 2010 avevo pubblicato il video intitolato allora Pietro Citati scriveva sulla Repubblica capito? sulla Repubblica adesso scrive sul Corriere della Sera ha fatto carriera e fa concorrenza a Paolo Mieli e poi ve ne parlo dalla faccenda perché c'è concorrenza tra Pietro Citati e Paolo Mieli perché fanno a gara a chi le fa più lunghe le inchiostrate è vero Paolo Mieli che fate a gara voi due a chi le fa più lunghe le recensioni dei libri che poi fare una recensione è una cazzata beh io nel 2010 in aprile del 2010 avevo dedicato al signor al signor Pietro Citati un video intitolato Pietro Citati Umberto Bossi la malvagità dell'intellettuale perché questa quest'anima buona qua quest'anima buona è un intellettuale voi sapete che io non ci ho mai avuto simpatia per la parola intellettuale guardate questa è un'anima buona perché sulla Repubblica proprio mi pare nell'aprile del 2010 scrisse un editoriale e contro Bossi guardate che io nei confronti di Umberto Bossi non c'ho né antipatia né simpatia però c'è la pieta la pieta stoica la pieta stoica gli intellettuali non la conoscono però la pieta stoica io mi ricordo tutto Pietro Citati io mi ricordo tutto e ti riporto indietro all'aprile del 2010 quando tu scriveva sulla Repubblica di Eugenio Scalfari di Eugenio Scalfari e di Carlo De Benedetti ti riporto indietro ti ricordi quando tu sulla Repubblica tu anima buona tu Pietro Citati anima buona hai detto che Umberto Bossi quando parla in tv balbita cola cola tutto come se sbava perché c'ha avuto l'ictus poi hai spiegato pure che c'avrebbe avuto c'avrebbe avuto l'ictus perché invece di una pasticca di Viagra ne avrebbe preso due e hai invito hai prevaricato nei confronti di Umberto Bossi può piacere o non piacere ma c'è la pieta la pieta stoica la pieta la quale vuole più un altro della giustizia cosa vai a dire Pietro Citati nell'aprile del 2010 guardatelo lì un belto Bossi c'ha avuto l'inco quando va in televisione è lì che balbetta sbava ma cosa si si è tutto documentato perché a me non scappa nessuno capito capito Pietro Citati come non mi scappa neanche Palomieri che fa gara a chi le inchiostrate le fa più lunghe tra poco vi ce vorranno tre pagine non vi basteranno più due pagine capito beh cari amici voi che mi seguite io quel mio video dell'aprile del 2010 intitolato Pietro Citati Umberto Bossi la malvagità dell'intellettuale ve lo metto come link nel riassunto di questo video così lo andate ad ascoltare e a vedere voi personalmente va bene così vedete che anima buona che è questo signore qua beh ma adesso stiamo stiamo qua sul tema l'Islam e le crociate è un altro punto di vista uno pensa che tu ci dai un altro punto di vista ma tu non ce l'hai dato un altro punto di vista tu hai fatto solo il pappagallo Pietro Citati tu sei un intellettuale hai fatto solo il pappagallo hai letto il libro seduto comodamente nel tuo studiolo hai letto il libro hai sottolineato le parti che ritenevi più interessanti e poi hai scritto la tua sbrodolata lì la tua inchiostrata ma non glielo spieghiamo ai lettori perché nel mille millecento millecentocinquanta dopo Cristo dall'Europa partono i crociati perché partono i crociati ma perché i crociati devono andare a conquistare i luoghi santi i luoghi santi del cristianesimo ma perché ci devono andare ma se sono luoghi santi del cristianesimo e come mai in questi luoghi santi c'è l'impero arabo l'impero islamico perché c'è l'islam perché non glielo spieghi questo Pietro Citati mi fai ricordare quella favola della volpe che va che va sul palcoscenico va dietro dove ci sono le maschere le maschere le maschere le maschere le maschere gli attori prende le maschere una a una le gira e vede che sono vuote e dice e cerebrum non apet e cerebrum non apet ma perché non glielo spieghi eh com'è che che si parte mille mille cento mille cento se parte per due trecento anni dall'Europa partono i cosiddetti i crociati i crociati alla conquista dei luoghi dei luoghi santi ma com'è che nei luoghi santi c'erano gli arabi nei luoghi santi del cristianesimo c'erano gli arabi perché c'erano gli islamici l'impero islamico ma tu glielo devi spiegare il lettore di Corriere della Sera guarda che io tra parentesi Pietro Citati e Paolo Miedi io io sono una un azionista eh di RCS Media Group Corriere della Sera eh sì sì è tutto detto e documentato nel mio video intitolato Rizzoli ora ci sono anch'io è tutto detto è tutto documentato nel mio video intitolato Rizzoli ora ci sono anch'io io sono azionista eh non mi piace mica eh non mi piacciono mica le tue inchiostrate di tu che sei passato dalla Repubblica al Corriere della Sera e sulla Repubblica nell'aprile del 2010 hai avuto quella vergognosa polemica dove te la sei presa con un uomo gravemente ammalato e gli uomini gravemente ammalati anche se non piacciono vanno rispettati tu non conosci la Pietas la Pietas stoica che poi sarebbe anche la misericordia cristiana tu non la conosci e perché non spieghiamo ai lettori del Corriere della Sera io vorrei che Paolo Mieli intervenisse perché siete in concorrenza voi due Paolo Mieli intervieni? diglielo pure tu Paolo Mieli che Pietro Citati ha fatto una sbrodolata e bisogna spiegarglielo ai tuoi Corriere della Sera perché ci sono state le crociate ma perché ci sono andate le crociate perché i crociati sono andati sui cosiddetti luoghi santi sacri del cristianesimo perché? e bisogna spiegare che il cristianesimo nasce nel primo secolo dopo Cristo va bene? primo secolo dopo Cristo tanto per far capire nasce ai tempi dell'imperatore romano Neroni Neroni nasce al tempo in cui viene c'è c'è l'erunzione del Vesuvio che seppellisce Stabia Ercolano Pompei nasce nel primo secolo dopo Cristo il cristianesimo il cristianesimo nasce in Palestina perché Gesù era un palestinese era un ebreo era un giudeo nasce in Palestina e poi si allarga all'Egitto alla Libia si allarga alla Tunisia perché Sant'Agostino era di Tunisi arriva in Algeria e pure in Marocco poi poi il cristianesimo a Oriente si sposta poi su in Siria in Ciortania Mesopotania tutte terre cristiane Paolo Mieri intervieni anche tu sai pure tu sei la tua responsabilità Paolo Mieri e anche tu e poi ti fa concorrenza l'intellettuale Pedro Citati perché le inchiostrate le sta facendo più lunghe delle tue Paolo Mieri intervieni intervieni Paolo Mieri e allora allora e dìgono no che quelle dove andavano i crociati erano terre che prima erano cristiane erano tutte terre cristiane erano capito spiegaglielo tutte terre cristiane Palestina Egitto Giordania la Siria la Mesopotamia la Tunisia Santa Cortino l'Algeria tutte terre cristiane erano poi sono arrivati gli arabi dal 750 in poi cioè sette secoli dopo sono arrivati gli arabi che le hanno conquistate quelle terre quindi i primi i primi i primi da fastidio al cristianesimo sono stati gli islamici i primi da fastidio al cristianesimo sono stati gli islamici i crociati sono andati nei cosiddetti luoghi santi o luoghi sacchi per riprendersi quello che era già loro prima ma il mio non è un discorso di natura religiosa che sia chiaro il mio non è un discorso meramente storico il mio è un discorso meramente storico Pietro citati dio come so contento Pietro citati che so tornato su di te so tornato su di te Pietro citati quanto sei buono Pietro citati che ho ripescato quel mio antico video dell'aprile 2010 intitolato Pietro citati Umberto Bossi la malvagità dell'intellettuale Paolo Mieli intervieni perché se no Pietro citati devi fare scarpe sai Paolo Mieli presto le inchiostrate dei Pietro citati saranno più lunghe delle tue fatti sentire Paolo Mieli capito fatti sentire in ogni caso siete due enormi inchiostratori vabbè vabbè beh cari amici beh poi andate a vedere con il video dell'aprile 2010 intitolato Pietro citati Umberto Bossi la malvagità dell'intellettuale ok cari amici a